Cotolette vegetariane buonissime! Le realizziamo con i funghi pleurotus. Per 4 persone abbiamo 500 g di funghi. Ci serviranno 3 o 4 uova, della farina, del pangrattato, dell'aglio, prezzemolo e poi olio per friggere. Ecco che in pochi minuti portiamo a tavola delle cotolette da gustare ben calde, super croccanti e dal cuore carnoso morbido che profuma di fungo.